qui l'ha fatto il gran... oh, il Fabreda l'ha fatto Fabreda ha fatto il castello c'è un assetto là il baffetto della vettura anche te c'hai un assetto di baffetto sì, c'è il campanello e il baffetto si tocca ho chiamato il tuo programma e in dialetto devo urlare in dialetto urlalo anche quando siamo in servizio e non quando c'è le puttanalle ti c'è il campanello Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.